Maschi contro femmine nascondino Sì, siamo pronti Sì, siamo pronti Ok, sì, è pronto Mi raccomando, mi raccomando Rivemo per questo video Non lo so, facciamo 15.000 like, che ne dite? Lasciate like qua sotto se volete altri mini game In questa maniera maschi contro femmine Perché l'ho sempre voluto fare, adesso che c'è io, possiamo farlo Ci sono delle regole Una delle quali è non uscire Poi non si può andare nel sotterraneo Perché c'è un sotterraneo E poi soprattutto non si può andare nel secondo piano Ok, va bene Avete preso queste regole Anche perché non potete a priori perché ci sono i barrier che vi bloccano Ok, perfetto Va bene, ragazzi allora Sens, devi tenere gli occhi più aperti Già lo so che ce li hai apertissimi questi cavolo di occhi Ma non li posso sparare se li vedo No, non devi sparargli Sens Altrimenti non vale il mini game così Devi prenderli con Io vado sopra Va bene, dividiamoci Senza, non puoi andare a destra Senza, c'è il barrier No, non puoi andare un po' ci si Non puoi uscire, no Vai dritto, vai dritto Ah, ragazzi, state attenti Perché potrebbero fare Ok, sì, lei presta, lei presta, lei presta Ok, ah, ragazze Potete, credo che potete continuare a cercare Se non sbaglio voi Non mi ricordo Trovo un'altra Oh, Krucco, ma aspetta Ma dacci Dacci anche un po' di tempo, Krucco Ma Krucco è fortissimo Ma io sono uscito È vero, cavolo Diamo in questa aula se c'è qualcuno Ah, ti ho trovato Vieni qua, vieni qua Vieni qua No, no, mi ha dongiato, mi ha dongiato, mi ha dongiato Mi dispiace Mi dispiace Effettivamente Effettivamente Di qua, tu potete Anderete nessuna parte Perché ce l'ha qua Qua sovra che è bloccato E che sono bloccato fuori Perché sono uscita Ma non puoi uscire Dalla finestra E sono uscito E sono fuori Bloccato Ma perché sei uscito dalla finestra La vera domanda è questa Perché ho sempre bisogno di potermi Da una finestra a scuola Mamma mia Dio Ragazzi, non fate come fa senso Ok, questa volta Saranno le ragazze A cercarci Quindi Nascondete i maschi Andate Ok Allora, il bello di questo minigame È che due piani Sembrano pochi Ma in realtà Cioè, no Sembrano assai Ma in realtà Sono pochissimi Perché Le euro è molto complicato Nascondersi Ci può mettere Se non sbaglio Sotto il banco Una roba simile Oppure sì Non mi trovo mai Eh, non c'è niente Ragazzi Ragazzi Dove sono messo No, raga A posto Ragazze Ragazzi Ragazzi Cosa? Eri nel sacco Ma per indicarci Esatto Dobbiamo trovarli Siamo più forti di loro Tant'io Tant'io? Sì, sì Sì, sì Sì, sì Sì, sì Intanto mi mangio gli smarties Sì, bravo No, no Per il sentimento Io invece mi sono nascosto proprio No, è me è impossibile Via, ragazzi Via, via, via Via, via, via No Stanno arrivando Le donne stanno arrivando Attenti Nascondetemi Nascondetemi Sicuramente sopra Che ho di sì Sicuramente Non mi ricordo Se ho chiuso la porta Vabbè Al massimo non riesco a scarparmene Se arriva qualcuno Preso Mi ero bloccato Mi ero Ma io non mi sto Ma io non mi sto Ma io non mi sto Dietro Perché comparsevi davanti Cavolo Vabbè Ok Mi sono pure spaventata Non pensavo che eri lì Vediamo se Vediamo chi c'è Chi altro c'è qua In giro Ragazzi Ragazzi Attente Perché zio Kruk Avete trovato zio Kruk No Ecco Zio Kruk Sareacca Non si sa come Riesce Nascondersi sempre Benissimo Zio Kruk Ti basta Giro Che ho fregati tutti io Eh queste classi Le ho fatte io Non si può uscire dalla finestra Senza Ricordo Ma dove cavolo Come Come Sei Come si Sfruttare la prospettiva Di minecraft Ciao Non è che magari Si all'interno Di niente più 5 In Ciro Senza Basta smangiare Smarties Mi metti sui neri Sul tavolo E' uscito dalla porta Ora E' rientrata Dove cavolo è Che senso Può essere davvero piccolino No Non sono piccolo Sto giro Non sono piccolo Però potresti essere nascosto Magari dentro Gli armadi A Sensi Perché si Ciao Lo sapevo Ecco No Non riesco a prendere No Ragazze Riresca Ecco Mi sa Mi sa Che non posso Io Mi sa Che non posso Io Manca l'ultimo Ecco Ma Io so Stupido Ragazzi Non dovrei Dirvi Dove Stanno I maschi Eh Vabbè Ormai Sei Un traditore Sei una femmina Acquisita Sei una femmina acquisita Sei una femmina acquisita No ragazzi Sto diverti troppo Però Dai Grucco Vabbè Sei bravissimo Vai Grucco Meno male che ce l'ho Nella squadra Per opie ragioni No regà No Spesso Non mi trovate Trovato Trovato Come ho trovato L'ho fermato Dov'è Dov'è Fermati No Sì Eravate pure Entrate tutti Nella stessa grassa Eravate tutti entrati Eravate dietro La schifania Come Raga Raga La cosa La cosa La cosa Bella E che sentivo Eccolo Eccolo Sento senso Pen che spara Eccolo Prendetelo Sparate Ok Va bene Adesso cambiamo un attimo Le regole Adesso Ok Ora ci sono i transessuali No Adesso Tolgo Tolgo I barrier Ok Liberi Ah così Ci perdiamo Praticamente Esatto E possiamo andare Di sotto Siete pronti Aspettate anche Dall'altra parte Spera Ok Perfetto Così Siamo pronti Raga Sì Va bene Allora Vai Di nuovo Il turno Delle ragazze Non so dove Cambiarmi Oh no Perché mi sono mosso io Sono Ero femmina per un attimo Ragazzi mi sono mosso Mi sono bloccato Ma prima Per il momento Mi hai raccontato Come è femmina Vediamo un po' Le porte Ok Ragazzi Sainz Perché devi fare Il biscotto di Shrek Sainz Basta Ok 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 Ottimo Che bello sarebbe Fare la skin Con i biscotti di Shrek No Adesso Siamo in un tanto Non cercate Allora Mi raccomando Adesso Raga Molte per molte Ragazze Sicuramente Andranno sotto Quindi La nostra Primo obiettivo Sarà quello Di andare sotto Io vado sotto Sennz va a pieno terra Il crucco va a primo piano Va bene Ok Ci siamo Ragazzi State pronte Perché chi sta sotto Si fa sotto Con sbrizzer Allora Vediamo un po' Vediamo un po' Ah ma non l'ho contato Che qua c'era un altro Un altro posto Cavolo No raga raga È più grande di quanto pensassi Questo posto No Non è Ok qua Non c'è niente Le mucche vanno Ma ragazzi Non ci sono più No Ok Qua non c'è nessuno Che qua c'è proprio nessuno Vai tranquilla Ci stiamo Ma non è che proprio Non c'è nessuno qua Raga Non c'è nessuno Sto vedendo il sotto Raga ma Vedete che di sotto C'è proprio Un casino Per nascondersi Proprio Sono un bordone a distanza Perché non hai messo Nel barriere Cavolo Le avete trovate Nessuna No Di sopra Non vedo per adesso Ancora Allora di sotto Mi sa che ci sarà Il casino Nessuno Valle lato Valle lato Valle lato Valle lato Non c'è nessuno Economia Niente Ma state giù Ma spero Vanno pure per sicurezza E non lo so Perché qua non ci sono Proprio Ragazzi Pochino Pochino cosa È tutto chiuso Ma come Pochino Ma come Dove cavolo siete Non le troviamo Perché Le sono Infilate Mi serve Il mio L'uso Chissà Goku Non lo sa Però Questo Vi scoprere Come No Come Come Scoprere No Ragazzi Ti trovo Dove Ok Di sotto Non ci siate Mi sa che avete Usato la psicologia Inversa Per forza Ma più o più Non lo Tu dici O forse Ti stai autoingannando Ah io sa che Meg Non ci sono Non c'è Prove No raga No mi sa che questa volta Le femmine hanno vinto Vabbè Se vincete solamente Perché siete un po' Più sottili Rispetto a noi Sì Un po' Più sottili Certo Vi riusciamo a trovare Proprio Dentro la macchina Non c'è nessuno La macchina In che senso La macchina Eh la macchina C'è una macchina Marcheggiata Qua Sai com'è Professore Paldi Ho trovato Non ci sia nessuno Dove 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 dove? Dove è Dove è Dove è Il carbutore di chimica Ah Aspetta 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 Mi sa che Violet Mi sa che Violet Allora è vicino Violet è vicino Violet è vicino Mi ricordo che aveva detto Che c'era nascosta Meg Quindi aveva capito Dove era Meg Quindi è stato che Meg È qua Dovrebbe essere pure qua Violet Ma abbiamo Sei secondi Che cavolo no hanno vinto la gioste grazie come eravate ragazze entrambe nello stesso posto per me ria a pieno terra a controllare ok io sono nascondermi siete pronti quando sono tutti giù sono salita vado subito a nascondere nel posto che già so io a questa cosa mi preoccupa oddio quanto verde dove dove sono dove sono verde viala raga raga qua veramente qua ci fanno macello vede mai a nasconderti come già sei bravo a fare perché c'è un tizio che mi sta chiamando su skype c'è notizia che si mi stava chiamando su skype non mi posso nascondere qua ci manca solo un punto quindi concentriamoci se vinciamo queste siamo in vantaggio magari faccio così no cavolo ok vai ok no mi sono mi sono messi nella cacca mi sono messi nella cacca eppure io devo stare così a qua si può andare se tu non li vedi loro non ti vedono questa è la regola se loro non crede così così ma di dove sono aiuto a sento dei passi spero che non l'ho capito ok raga mi sa che ho trovato veramente un bel posto questa volta perfetto riguarda le famose nei bagni della caccia forse non vedo i nomi non vedo i nomi non vedo i nomi rossi si infatti ho visto le tue orecchie che parlavano come siete qui dove siete non sono qui va dio non sono qui va dio oh cavolo oh mio dio ciao sans ciao mamma nooo non è vero ok 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 mi sono nascosto mi sono nascosto benissimo avevo visto un cappuccio un cappuccio solente come è possibile no non è possibile ehm dove no 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 ok aspetta dove cavolo è lei no lei è sopra no sono stupido perchè l'ho detto ok ecco non riesco a trovare nessuno che cavolo sez ez faccio la guardia del corpo un attimo mi devo gonfiare i muscoli un minuto manca ok ok me lo sono scappato come dove si è scappato mi sono scappato caspita è ma non so dove oddio mio che ansia no mi sta chiamando non vale che cavolo no ma c'era anche sto doccio no non mi ha preso raga che cavolo sto scappo che mi chiama ragazzi non lo trovo ragazzi porterò il nome dei maschi vivino la vittoria mamma mia non ci entriamo manco 17 secondi non ce la facciamo di cosa givi è andata a controllare tutte le stanze tranne una no come sto sotto raga sto sotto non è possibile questa ma ciao dove stava era sotto no era qua sotto no grazie non è riuscito da guardare il corpo serve una barretta di cioccolato io qui non ci sono arrivata ah vero così tipo va bene va bene va bene ragazzi ragazzi se vi è piaciuto come sapete lascio il polline subito mi raccomando scrivete qua sotto nei commenti se volete altri minicame del genere e noi ci vediamo in un prossimo e nuovissimo ciao ciao bambini ciao Ciao